Per le ricette del Garno ragazzi e con i vini in esclusiva per vino.com costolette Daniello fritte. Daniello, il nostro pan grattato, le uova che andremo a rompere e poi sbattere con sale, pepe, olio e un po' di scorso di limone e poi le andremo a impanare e facciamo riposare per 30 minuti. Nell'attesa ci degustiamo il nostro filicale Borghio 2019. 2019 è un'alta dell'equilibrio, della densità, bellissimo colore, vivo, luminoso, un rubino porpora, al naso preciso, pulito, queste sommature tipiche del Borghio, piccoli frutti rossi, queste latte mentolate, iodate, con questo richiamo di macchia mediterranea. Il gusto del Borghio elegante, piacevole, intorno ai frutti rossi e di questi tocchi leggermente selvaggi, una chiusura di grande beva. Portiamo l'olio a temperatura bello caldo, mettiamo la mano e sentiamo friggere e cominciamo a buttare le nostre costolette. Guardate che bella, gli andiamo a dare una bella donatura e buttiamo 4-5 di più. In questo caso, visto la grandezza anche della costolina, ci fermiamo 4. Gli apriamo più, li apriamo e poi ne andiamo a più muovere. Poi dovranno una bella donatura, le andremo a scolare e ne andremo a servire con un po' di sale e un po' di scostetti di limone. Appena pronte le abbiamo scolate e le mettiamo a tavola, in abbinamento con il nostro Borghio Filicale 2019. da provare!